Due casi di furto scoperti dalle forze dell'ordine nella giornata di ieri. Nel primo avvenuto a Lecce, un giovane stava asportando delle biciclette agganciate sul tettuccio di un furgone parcheggiato in piazza Vittorio Emanuele II nei pressi dell'hotel Santa Chiara. Il portiere dell'albergo, notandolo intorno alle 4, ha poi segnalato l'episodio alla polizia leccese. Gli agenti della questura hanno poi fermato il soggetto nei pressi di corso Vittorio Emanuele per un controllo dal quale sono emerse diverse selle dotate di canotti e successivamente alcuni accessori da bicicletta, un paio di forbici e un navigatore satellitare. A Galatina invece un 26enne del posto è stato arrestato con l'accusa di aver rubato il computer portatile da dentro lo studio del parroco della chiesa della Madonna della Luce. Qui gli operatori sono risaliti al ragazzo dopo una perquisizione domiciliare dalla quale sono spuntate le chiavi della parrocchia stessa. Grazie a tutti.